Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e rieccoci su Opera Omnia versione giapponese. Oggi andiamo a pullare su banner di Seifer. Lo so, avevo detto che non andavo a pullare nei banner, in nessun banner, fin quando non avrei ottenuto 75.000 gemme, ma poi il gioco giustamente ha deciso di mettermi il banner. Non vai a pullare per Seifer, da amante di FN8 e ci pulli, e quindi iniziamo a pullare. Allora, a prescindere dal fatto che mi manca tutto di Seifer, perché ancora non sono arrivato al capitolo dove c'è Seifer, quindi non ho una 15, non ho nulla, assolutamente nulla di Seifer. Quindi devo farmare, devo continuare ad andare avanti con i capitoli, quindi ho bisogno di un po' di roba. Io spero di ottenere tutte le armi di Seifer, 15, 35 ed X. Momentariamente ho presa così, grazie il gioco, grazie, quella che volevo. Adesso però io devo continuare a pullare perché non ho le armi e non ho neanche Red Token perché li ho spesi per Claude, Squall e Lightning per prendergli qualche arma a loro perché non avevo Power Stone, quindi... Ok, ho preso la X di Seifer così al primo colpo, però con la multigratuita tra virgolette, però continuo a pullare ragazzi, continuo un pochettino. Quanti ticket ho? Una tantina di ticket, quasi quasi, lo sapete che vi dico? Io me le risparmio queste gemme, se riesco a prendergli le copie della 15 e della 35 con i ticket, quasi quasi lo faccio con i ticket. E naturalmente come sempre i ticket ve li velocizzo ragazzi perché se no non ce ne usciamo più, sono 80 e comunque sono parecchi. In ogni caso poi sentite dappare lo schermo ogni mezzo secondo ed è abbastanza fastidioso, quindi... Schippiamo, velocizziamo il tutto, dai! Chippiamo, velocizziamo il tutto, dai! Vino, velocizziamo il tutto, dai! Vino, velocizziamo il tutto, dai! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501